Roma, 29 settembre 2017, piccoli borghi superdigitali, con banda ultralarga, artigianato 4, servizi amministrativi, fiscali, postali, sanitari, socio-assistenziali e ambientali concentrati in strutture polifunzionali, come farmacie e ambulatori medici, per dare un'idea, offruibili online. Ma anche con recupero delle attività tradizionali, rilancio dei centri storici, dei beni ambientali e monumentali. Senza trascurare l'incentivazione della distribuzione dei giornali, e della stampa quotidiana. Sono solo alcuni dei capisaldi della legge sui piccoli comuni, quelli fino a 5.000 abitanti, che si sono andati spopolando e impoverendo negli ultimi decenni, fino a diventare spesso dei centri praticamente quasi disabitati. Una legge che, dopo 16 anni e 4 legislature, ha conquistato ieri mattina il via libera finale al Senato praticamente all'unanimità. 205 sì e due soli astenuti.